Ciao a tutti ragazzi, qui Fortunymer che parla e oggi ho avuto un'idea Cosa accadrebbe se io facessi 10 partite di fila al competitive? Quanti punti farei? Beh, scopriamo l'assieme andando in game Siamo qui quindi con la schermata senza partite giocate Come potete vedere dobbiamo ancora farne alcuna E andiamo Mi sono appena accorto che questa modalità si costruisce E io non costruisco da tipo Boh, 3 mesi su Fortnite Che bello L'ultima volta che ho costruito era prima della no build mode Mamma mia ragazzi Tra l'altro poi hanno aggiunto pure sto coso qua Vabbè, io le eviterò Andiamo a Tilted Prima partita nel competitive Ma non so se andare a Tilted possa essere stata un'idea geniale Lo scopriremo Ovviamente la cesta non ce sta Buono come il pane Vai, prima scala costruita Dall'ultima volta che avevo giocato a Fortnite Nella classic mode, diciamo così, va Vabbè, GG Ma il Siphon c'è? Credo di sì O no? Mi sembra di averlo visto Poi magari mi sbaglio io Non so manco se c'ho le armi cariche Vabbè, sai se può fa Salve Come va? Ok Eh, si vede che sono nell'arena più bassa Raga, eh, comunque Cioè, oddio Si vede fino a un certo punto, eh Una partita ce la dobbiamo vincere Almeno la prima Perché Bravo, GG Peccato Prima andata Allora ci siamo Stavolta più aggressivi Stavolta sul palazzo centrale Ci facciamo subito kill Subito kill Subito kill Scherzavo, niente kill Questo è un fucile d'assalto? Ora è mio Farò mai una kill secondo voi? Ma secondo me se prendo questo combat Buono Come il pane Era il tizio che avevo sparato Un colpo Gli era entrato palesemente In testa Si annullò Non so cosa ho fatto Una delle performance peggiori Che potessi portare Sacce sotto Mamma mia Andata Mi serve il suo OG E basta Sono uno che sta sfondando qua sotto Non capisco dove Credo lì Però c'è qualcosa davanti alla porta Non capisco esattamente cose Uh Avete visto quanta vita mi aveva lasciato? Io l'ho vista ed era molto poca No aspetta Calmo Queste bende Ah Stanno Stanno piccando anche da altre parti Devo stare coperto Ah morto Uh Belli sti bug Sinceramente mi farei un'altra puzza grande Ok è andata Sta arrivando qualcun altro Dov'è? Ah un altro Eh raga gg Raga una finché siamo in open league La devo portare a casa È necessario Sono un po' disabituato Avendo giocato per molto La no build Però secondo me si può fare Ah bam Ci prendiamo Un fucile a pompa qui Buono Ok Uno è andato Dio Questo revolver Per il momento Come primaria Me lo prendo Bella Uno scambia pare di revolver Se non sbaglio Dovrei avere qualcuno Che sta salendo sotto Eh c'è infatti Bro non ti sei chiesto Perché non c'è nessuno Buono Devo subito risalire O meglio Questi che avevano Questa Questo Ok ciao Uh Qualcuno dietro di me Sai che avevo fatto bene A prendere il revolver Uh Bravo Mamma mia Mi è andata bene Sarebbe stato capace Di eliminarmi questo Ma io quasi quasi Mi ritengo il revolver Ragazzi Mi trovo molto meglio Rispetto all'og Tra l'altro io credo Che così facendo Ragazzi Mettendo la possibilità Comunque di saltare Anche nel competitive La gestione dei materiali Ora sia completamente diversa Posso Tenermi full Quasi costantemente Interessante come cosa Ti devi calmare Broderino mio Bello l'inizio Ma l'esecuzione No Sono qua Ma in che senso Vabbè Poverino Menato Però Solo che me ne vorrei andare Sincero Andiamo in safe Questo è un tizio Non ce credo Vabbè Ciao Quello Ci inizierà sicuramente A seguire a breve E io non ho la vita Per farlo Ma ci devo non avere Nessuno alle spalle E infatti Lo sapevo Dove vai? Dove credi di scappare? Lo fa davvero Ragà? Cavolo Io dovrei essere Ancora in safe Anche se per poco Ma quasi quasi Io Da dove? Sono morto Non ancora? Vabbè Buono Ok Sono in safe Ottimo Sono al centro Della safe Ragazzi Non vinco questa Mi sa che Non ne vinco più Nessun'altra Ah Questa era carina Però Peccato Oh Ma non ci credo Manco io GG C'è prova C'è prova C'è prova C'è prova C'è prova GG Andato 10 kill E vittoria Ok Dovevo tornare a costruire Per farle O dovevo andare in open league Chissà Oh ma quanto Dobbiamo ancora giocare Per passare di lega 165 Oh dai Si può fare secondo me Andiamo Allora io direi Facciamo Cinque partite a tilted E poi le altre cinque Ce le giochiamo a tilted Poi se ci pensate Tilted Assomiglia a tilt Cioè quando uno è tiltato È perché è andato a tilted Cioè vedi come tilted towers Perché ti tilt Oddio Non l'ho detto davvero Oh Quanta gente ci sta Oh Eeeh Vabbè 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 C'è una Vabbè Lo riesco a fare? Guarda Sono la persona più figa Sulla faccia della terra Adesso pure morto a breve Un'arma 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 Guarda una Una Non chiedo tanto Una Sempre una Ok Mamma mia Che io ho fatto a questo Buono Recuperata in calcio d'angolo Ma poverino Non ha armi Ok È andata male fra Grazie però Dello scudo Ma io andrei al campetto da calcio Sincero Ma no Sta un tizio qua però Eh vabbè Potevo aspettarmelo Lo ammetto Potevo Morto GG Errore mio Errore Ah Aveva il combat Io vado contro un tizio col combat Gli do linea di tiro Quarta andata Ma che cosa Cos'è Cioè Sì Vabbè In quattro da sopra C'ha uno Bello Devo provarci raga No no Questa cosa non doveva andare così Ok Giro tattico per risalire Vabbè raga lo ignoro Non mi conviene andarlo a fetare Perché se sta camperando Potrebbe tranquillamente Buttarmi Una Spompata in faccia E Disintegrarmi Quindi non mi interessa Lo sapevo L'avevo detto io L'avevo detto io Lo sapevo che lo faceva Sto sorcio Allora Shield gag E assalto Vabbè Allora torniamo su sto palazzo Qua sotto c'è un combat Aspettate Ok Devo salire Perché ho un tizio dietro Sopra proprio Ah Non so se riesco a fetarli Si vedono No C'è un tizio là sotto C'è un tizio Mamma mia Che cavolo è stato Uomo Questi si stanno a mena sopra di me State calmi Ok Lasciamoli Faitare tra di loro Eh sta un tizio lì Wow Mi è nato del brutto pure Scendi Mi sto mettendo in qualcosa Molto più grande di me Vado come il pane Ok Un tizio sul tetto Che non credo sappia Che io sono qua giù Sinceramente Meglio Mamma mia Poverino Mi ha aspettato tutto sto tempo Ce posso credere Perché ogni volta che sparo Con sto AUG La mia mira se ne va Cioè Questa ma meritavo però Ero sul telefono Lo ammetto Ero sul telefono Se mi riesce Sono bellissimo Ho preso io tutte le armi Ho preso io tutte le armi Ovviamente no GG Questo è il miglior tentativo Di sempre Volevo vedere Volevo vedere cosa ci fosse qua sopra Sincero Ok perfetto Nulla sul quale Possa lendarmi Ottimo Ho preso già il mio vantaggio E questo che è un fucile a pompa Ok No 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 Però devi stare calmo Però devi stare calmo Ok un bot Devo correre via Correre fortissimo Mi sta arrivando un tizio sopra Ok Vabbè Io Odio Lendarmi in zone diverse Rispetto a quelle In cui mi danno di solito Tipo finna quelli Dove ci siamo lendati Tutto Tutto il video Ma per una questione che io Per una questione che io Che non le non conosco Per una questione che io Non le conosco E quel tizio è rimasto fermo Ora io mi faccio menà Perché so pure stupido Ecco cosa ho fatto Questo sta come il pazzo Oh Scillatelo sto tipo Io ho uno di vita Lasciatemi stare Ok Sono vivo Dovrei avere un tizio Proprio qua sopra Eh ce l'ho infatti Fatemi fa sta cosa Bella Ok qua la gente c'era Quasi quasi dopo Possiamo continuare a lendarci qui Non è male Ah addirittura ora i ponti Vengono messi a K alla volta Ok Ha senso Ci può stare Ah mi sono lendato troppo Vabbè gigini ma merito Devo sparare solo per far distrarre Il tipo sotto E infatti per questo motivo Morto Uh no Ma veramente Basta questo tipo però Ma ha senso eliminare i boss Ragazzi Cioè ha senso che io mi metta E provi a eliminare il boss Qualcuno me lo fa sapere nei commenti Me lo commentate Cioè che li elimino a fare i boss Veramente servono a qualcosa Ci prova Ci prova Ci prova Ci prova Non ci riesce Buono Ci riesco io A voglia se ci riesco Subito Vitro d'albero E poi si sbuca Ciao caro Ok Buono Oh 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 E' tenda Dove sei uscito Ma te stai qui perché sei senza vita Palese No in realtà no Secondo me questo è senza vita Perché si è lanciato male Ci riesco a fare qualcosa Secondo me si Quanta gente vedo Solo quei due Ma mi fa strano Sincero Ah questo mi ha fatto male Per esempio Buono Ok Raga A buttare le mani Le stiamo buttando Stiamo facendo una partita Molto buona Forse la migliore Fatta fino ad ora A livello di kill Giocata Questo è tutto da vedere Mamma mia Mi lasciate stare un attimo No ma qualcun altro ci arriva Subito Palese Eh stando qua infatti Che è morto tra i due E' morto questo Veramente Cioè Non ha senso che sia morto quest'altro Uh Ma tu sei un pazzo Eh muoio raga GG Quanta vita Eh ce n'aveva Di vita Ok Colpa mia Questa l'ho giocata male io GG Peccatissimo per la partita Oh raga Non ho tentativo E' il penultimo Mi devo buttare di aggressività Devo cercare di emenarli tutti Poi se ci muoio Amen Ti tranquillizzi un attimo Madonna mia Quanti sono Fermatelo Siamo Siamo due di noi che siamo a fare Giro giro Tondo da mezz'ora Aspettate un attimo Dai ho capito Fatemi provo a fare sta cosa Ok Ok Per ora procede Buono Fammi salire Ho questo che aveva però Aspettate Bella per le mie gambe Vabbè Buono Questo è pure bello forte Tengo uno forte qui E uno scarso sotto La voglia che c'è prova Dai Provaci GG Cavolo Bravo Possiamo fare Il tutto per tutto E giocarci all'aggressiva E magari ci esce pure Una bella partita Magari anche non vinta Però giocata bene Oppure andiamo safe E puntiamo a vincerla Per chiudere in bellezza E l'obiettivo di quella vittoria Era proprio stare più tranquilli Poi per le partite successive Quindi nope Non ci interessa Serve però questo Ok Prima è andata Perché non stanno fightando Io mi aspettavo Che questa zona fosse piena Invece vedo solo bot cose Cavolo raga Cavolo Non è bella notizia questa Ok Un altro Quanti Quanti sit Mi hai veramente rubato la kill Ma tu da dove Ma tu da dove Ma in che senso Sento degli spari lì in lontananza Ah Mica lontanissimi eh Buono Un tizio Lo vedo High ground Che fa Un altro Morto Misadio sì Non ancora Non ancora Ragazzi voglio un like Per questo mega escape Non c'è Non è successo davvero Vabbè signori Comunque lasciate un like Se questo escape Alla fine vi è piaciuto Se in generale Tutto il video vi sia piaciuto E soprattutto Fatemi sapere nei commenti Se sono stato bravo Oppure no Qui vedete altri video Che potete visualizzare E noi ci becchiamo Alla prossima E noi ci becchiamo